Bentrovati ai radioascoltatori di Sport Radio da Fabio Pezzotti nella trasmissione Passione Giallorossa. Benvenuti nel nuovo anno, il 2018, che ci possa dare enormi soddisfazioni non soltanto a livello sportivo, ma che ci riempa di tante e tante soddisfazioni. Auguriamo il nuovo anno agli amici Roberto De Angelis, a Stefano Tini e a tutto il consorzio radiofonico. Salutiamo chiaramente tutti gli appassionati di Sport Radio che ci seguono e ringraziamo sempre loro per gli ascolti, ma diamo anche saluti speciali come abbiamo fatto nel 2017, iniziamo anche nel 2018, man mano salutiamo tutti i nostri cari radioascoltatori e iniziamo proprio quest'anno dai fratelli Sandro e Fabio Enea, che non sono soltanto appassionati di calcio, tifosi della Roma, ma sono anche ottimi amici, veramente bellissime persone, quindi grazie, grazie di cuore a voi che ci ascoltate e che ci commentate. Bene, torniamo in studio, torniamo a parlare della Roma, come abbiamo potuto vedere ultimamente la Roma, prima con la Juve allo Stadium, dove ha perso 1-0 con il gol dell'ex Benatia, ora all'Olimpico, l'ultima partita giocata in casa Roma-Sassuolo, terminata con 1-1, la Roma, dicevo, sta man mano deludendo. Ma andiamo a vedere in dettaglio la formazione che è scesa in campo all'Olimpico sabato scorso contro la squadra emiliana. Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nangolan, Schick, Zeco e Perotti. Il gol, manco a dirlo, dell'ex di turno per quanto riguarda la squadra del Sassuolo, Luca Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, scusate, che ha realizzato il momentaneo vantaggio giallorosso al trettunesimo del primo tempo, pareggiato poi, manco a dirlo, nella ripresa da Missiroli al trentatresimo, appunto, della seconda frazione. Ma andiamo a sentire in dettaglio i gol di Lorenzo Pellegrini. Perotti si innesca, va dentro a cercare l'inserimento di Schick, poi Pellegrini! Sulla sponda il sinistro vincente che porta avanti la Roma dopo 31 minuti, Roma 1, Sassuolo 0, ha segnato l'ex Lorenzo Pellegrini. Bene, torniamo di nuovo in studio, eccoci qui sempre dal vostro Fabio Pezzotti con passione giallorossa, qui su Sport Radio. Gol che faceva quello di Pellegrini, pensare a una possibile goleata, invece così non è stato e si sono rivisti i fantasmi dello stadium, parlo della partita precedente con la Juventus, una Roma tipica, una Roma abulica ad alcuni tratti. il tecnico Eusebio Di Francesco ha mandato in campo la miglior formazione, Zego e Schick, quindi veramente un tridente con l'assistenza di Perotti, ma a nulla è avvalso perché il Sassuolo del tecnico Iachini ha saputo bene imbrigliare la squadra giallorossa, mettendola più volte alle corde, anzi stava colpendo più volte di rimessa. Alisson è stato il migliore in campo, questa la dice lunga appunto, sulla squadra giallorossa e soprattutto sull'andamento della partita. Comunque è una delusione, io che ho potuto vedere tutta la partita, come tutti quanti i tifosi, mi ha deluso molto soprattutto la prestazione di Schick che non è stato all'altezza perché un giocatore che deve recuperare la forma fisica non può e non deve permettersi il lusso di giocare in quel modo. Quindi qualche colpa che io ho sempre difeso a spada tratta e ho sempre caldeggiato l'arrivo in maniera onorevole, l'arrivo del tecnico Eusebio Di Francesco alla guida della squadra giallorossa, questa volta ha le sue colpe, le colpe quelle di aver mandato in campo una squadra, amici i radioscoltatori, che non era all'altezza delle aspettative perché ti è capitato il Sassuolo, quella è una partita che devi vincere a tutti i costi, invece che cosa succede? Succede l'impensabile, addirittura il Sassuolo non soltanto ha pareggiato ma ha più volte rischiato di passare in vantaggio. Così non è stato per la brura di Nainggolan e per alcune anche decisioni arbitrali, però la Roma tutto sommato ha preso un punto, cioè tu stai giocando all'Olimpico e devi assolutamente guadagnare punti sulle dirette concorrenti che a questo punto sono, visto che anche l'Inter che ha perso punti, devi cercare di guadagnare punti preziosi sulla classifica, così non è stato, anzi ha regalato veramente delle situazioni importanti a squadre come Napoli e Juventus che stanno prendendo in largo. Ma andiamo a vedere in dettaglio la classifica delle prime sette, che vede il Napoli a 48 punti, Juventus a 47, l'Inter a 41, la Roma a 39, il Lazio a 37, Sampdoria a 30 punti. Quindi come vedete il distacco aumenta, le prime due, ossia Napoli e Juventus stanno prendendo in largo, stanno andando avanti, non si può raggiungere perché hanno non soltanto un divario tecnico, hanno delle squadre, quella del Napoli e quella della Juventus che sono improntate veramente a recitare un ruolo di primissimo piano per quanto riguarda questa fase di campionato. Il Napoli, bisogna dirlo, ha vinto nell'anticipo di venerdì delle 20.45 a Crotone contro un bel Crotone, è andato a vincere appunto per 1-0. Il Crotone viene negato un clamoroso rigore, quindi poteva essere un pari. Mentre la Juventus, amici di Sport Radio, la Juventus si sa, è andata a Verona contro un buon Verona, ma poi alla fine i valori in campo erano enormi, c'era un divario tecnico enorme e ha fatto ben tre gol con Di Bala sugli escuti. Quindi queste due squadre, ma bisogna fare attenzione poi anche soprattutto alla Lazio che è andata a prendere un meritato pari contro l'Inter, fermando un Inter, anche essa che è in discesa, un po' come la Roma, non si riconosce più, non è l'Inter che tutti ammiravamo, è una Lazio che sta lì, tra le prime quattro, insomma, che si sta dando da fare. Tornando invece a parlare della Roma e andando a vedere appunto l'organigramma che il tecnico Di Francesco ha messo in campo, una formazione di tutto rispetto, perché se andiamo a vedere i tre davanti, Schick, Zego e Perotti, non so quante formazioni se lo possano permettere. Una nota di rilievo per quanto riguarda, ma più note di rilievo ci sarebbero da dire, per quanto riguarda la formazione di Iachini, ben messa in campo veramente dal tecnico, uno su tutti, Ippolitano, l'ex di turno. Poi ricordiamoci che tra le fila del Sassuolo, in Pacchina, che è entrato poi nel corso appunto della partita, c'era anche Mazzitelli, quindi ragazzi cresciuti nel vivaio giallorosso e che la Roma ha mandato in prestito in giro per l'Italia e che adesso stanno facendo vedere veramente come si gioca al calcio. Politano è stato veramente una spina nel fianco della difesa romanista e ha fatto vedere come veramente si gioca a pallone. Un Politano che avrebbe giocato nella Roma contro il Sassuolo avrebbe sicuramente fatto, avrebbe segnato perché a più volte è sfiorato il gol il fantasista del Sassuolo, mentre abbiamo visto invece un chic abulico addirittura che è stato sostituito e ci sono stati sentiti anche alcuni fischi all'indirizzo appunto dell'attaccante cieco. Altra persona, altro giocatore che non sta dando i risultati, che si sembra essersi fermato dopo un ottimo avvio di campionato, Zego, che insomma è così, non ingrana più la marcia come vorrebbe il tecnico di Francesco, lo stesso dicasi di Parrotti, quindi ci sono dei giocatori veramente che hanno qualcosa che non va, riducono le loro prestazioni, non riescono a competere e a dare il contributo che i tifosi e tutta la parte tecnica, anche la dirigenza compresa, si aspettano da loro. Lo stesso Kolarov che all'inizio ha fatto vedere ottimo calcio sembra essersi arenato. Adesso la domanda è una, siamo usciti dalla Coppa, così navighiamo sì in alta classifica ma fatichiamo moltissimo contro le squadre di medio-bassa classifica, vedi il Sassuolo, ma quando ci saranno le squadre poi grandi, cosiddette grandi o quando si ritornerà in Champions League cosa accadrà? Questa è una domanda che sicuramente i tanti tifosi della Roma si stanno facendo, si stanno chiedendo. Beh, cosa accadrà? Innanzitutto proprio di questo è entrato in merito il portiere della Roma Alisson Becker e risponde alle domande dei tifosi, lui dice io voglio vincere nel 2018, quindi noi entriamo in campo, lui dice diamo tutto, sono ambizioso e voglio vincere con questa maglia, con questa squadra, quindi vorrei poter vincere tutte le partite, non è facile perché dall'altra parte abbiamo giocatori, giocatori insomma che sanno giocare a calcio, ci sono squadre che sono veramente ben preparate, ben messe in campo, quindi è sempre difficilissimo giocare e portarsi via i tre punti, però noi facciamo del tutto per cercare di fare le nostre le partite. Grande Alisson comunque veramente perché se non c'era lui la Roma avrebbe avuto dei punti in meno. Proprio cercando invece in queste ultime ore e anche si sta parlando molto di Ragen Angolan che nella notte di Capodanno tutti hanno potuto vedere, sono stati pubblicati alcuni video in cui egli stesso ammetteva di essere ubriaco lasciandosi scappare qualche bestemmia. Adesso io domando agli amici che ci ascoltano, ma questa cosa sarebbe accaduta alla Juventus o all'Inter? Adesso si sente dire che la Roma sta prendendo seri provvedimenti contro il tanto amato giocatore, ma che però come esce fuori dal campo e non è la prima volta che riesce ad andare su queste situazioni. Non è la prima volta che accade un episodio un po' strano che riguarda l'estroso Ragen Angolan. Speriamo che la multa che la società vuol dare al giocatore giallorosso sia così rilevante che faccia un po' capire quali sono i valori di Ragen Angolan veramente insieme alla squadra. Lui deve prendere per mano la squadra, deve dimostrare in campo, ma soprattutto anche fuori, chi è veramente questo giocatore che più volte poi prende la fascia di capitano. Quindi un vero capitano non si deve comportare così. Tutta la squadra è con Angolan, ma sia Monchi che tutti hanno criticato, non Nangolan perché questo è fatto all'interno dello spogliatoio, ma hanno criticato ampiamente gli ultimi avvenimenti in seno alla squadra, le prestazioni opache che la squadra giallorossa riesce a dare in queste ultime partite. Entriamo invece, voltiamo pagina e andiamo a vedere se invece siamo entrati amici di Sport Radio nel vivo del calcio mercato, che lo ricordo terminerà a fine mese. La Roma sta appuntando Joan Fran, che è però terzino destro dell'Atletico Madrid, che è prossimo alla scadenza del contratto, ma quanto riporta il mondo deportivo, il giornale locale di Madrid, il giornale sportivo, lo stesso terzino destro non vorrebbe lasciare l'Atletico Madrid e quindi vorrebbe di nuovo essere riconfermato. Non staremo a vedere cosa accadrà, siamo soltanto agli inizi. Poi il Monchi guarda a destra e sta cercando un terzino e un esterno di Francesco, perché sembrano questi i consigli che ha dato il tecnico al DS, appunto Monchi. Poi, per quanto riguarda le cessioni, ci sono Sassuola e Verona sul fantasista giovanissimo turco Ander, che lo vorrebbero appunto presso di loro. Staremo a vedere cosa accadrà. C'è il Sander ha un ottimo mercato, non soltanto qui in Italia, ma anche e soprattutto nel resto dell'Europa. Per quanto un'altra cessione importante è il Benfica che sta portando su Bruno Peres, destinato appunto, per lui si parla di un semestrale e il Benfica lo vorrebbe per completare così la sua rosa. Staremo a vedere cosa accadrà. Tornando invece a parlare della squadra giallorossa, che dire, io sempre poi sento le opinioni dei tifosi, non sono ben contenti di ciò che sta accadendo perché è stato perso terreno in portante. Ma si sa, il tifo della Roma non si perde d'animo, anzi si rimbocca le maniche e ci sarà sicuramente nella ventesima giornata, le ricordo, sabato 6 gennaio, alle ore 18. Di nuovo la Roma che giocherà all'Olimpico, questa volta contro l'Atalanta, un'Atalanta che ha fatto fuori il Napoli a Napoli nella Coppa Italia, quindi un'Atalanta veramente in grado di stravolgere ogni pronostico perché è una formazione di tutto rispetto, lo ricordo. si è qualificata quindi anche in Coppa Italia, è stata prima nel girone della Coppa UEFA mettendo alle cordie squadre come l'Everton, una squadra inglese addirittura, quindi voglio dire, una formazione di tutto rispetto, quella bergamasca che scenderà all'Olimpico per cercare di impensierire la Roma, Di Francesco dal canto suo dice, stravolgo, è ora di cambiare, stravolgo il modulo e metterò in campo la migliore formazione, chi non vedrò che sarà all'altezza verrà chiaramente sostituito o verrà messo in panchina, quindi una partita verità, quella che si giocherà all'Olimpico, una partita importante, dalla parte dei tifosi si prevede un buon numero, un'affluenza di tifosi giallorossi e noi amici che facciamo questo lavoro non possiamo che pronosticare una netta vittoria, una vittoria che possa far risalire le ambizioni della squadra giallorossa capitanata molto bene, diciamo, dal tecnicosebio di Francesco, quindi veramente, questo lo si aspetta, lo aspettano anche tutta la dirigenza, Totti e Monchi, che vediamo sempre in tribuna. Quindi amici di Sport Radio, veramente auguriamoci che questo anno, il 2018, possa nascere sotto migliori aspicci, con le intenzioni che la Roma possa prendere punti importanti a cominciare proprio da sabato contro l'Atalanta, dove ci aspettiamo e ci auguriamo una vittoria. Amici, siamo come sempre ai saluti finali, spero di essere stato degno del vostro ascolto, da Fabio Pezzotti e da tutto il consorzio radiofonico giungano i migliori saluti. Noi ci sentiamo venerdì con noi e il Frosinone, sempre qui su Sport Radio. Ciao!